Musica Ancora buonasera da Milano Pavia News, questa è l'edizione Pavia, benvenuti, vediamo i titoli. Dolore immenso tra Pavia e Travacò per la morte nella tragedia del Mottarone di una coppia di giovani ricercatori, del loro figlio e dei nonni, in lotta per la vita all'altro figlio della coppia ricoverato a Torino. La famiglia coinvolta nella tragedia del Mottarone era di origine israeliana, lui era venuto in Italia sulle orme della sorella, medico, e Pavia in procinto di dichiarare il lutto cittadino. Erano stati sparsi anche nel Pavese, i fanghi contaminati scoperti dai carabinieri forestali in una ditta bresciana non venivano bonificati, anzi si aggiungevano idrocarburi e metalli pesanti. Ha passato i controlli risultando perfettamente in regola il vino sequestrato lo scorso marzo alla Cantina Terre d'Oltrepo, nuovo colpo di scena in una vicenda che continua a creare clamore. Si è dimesso l'intero consiglio di amministrazione del CLIR, la decisione dopo che Mortara, Medes, Annalzare e Dorno hanno rigettato le fatture del 2020. Impossibile continuare. E' alto il tributo per il nostro territorio della tragedia del Mottarone, un'intera famiglia è stata distrutta, c'è un bambino che sta lottando per la vita all'ospedale di Torino. C'era anche una famiglia residente a Pavia, a bordo della funivia del Mottarone, che è caduta nel pomeriggio di domenica, 23 maggio, causando 14 vittime. Amit Biran, di 31 anni, e Tal Peleg, di 27, sono morti nello schianto assieme al piccolo Tom, di soli due anni. L'altro figlio della coppia, Ethan Moshi, di 5 anni, è invece ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Regina Margherita di Torino. Nel drammatico incidente sono deceduti anche i nonni di Tal Peleg, Barbara Cohen Koninsky, di 71 anni, e i Chuck Cohen, di 82, che erano appena arrivati da Israele, per stare con i familiari. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è stato causato dalla rottura di una fune traente. Il cavo si è spezzato 100 metri prima dell'ultimo pilone, in uno dei punti più alti del tragitto. La cabina è quindi finita a terra nei pressi di un bosco, in una zona impervia raggiunta in seguito dai soccorritori. La procura di Verbani ha disposto il sequestro della funivia, che è stata rimessa in funzione dopo il lockdown il 24 aprile scorso. Tra il 2014 e il 2016 l'impianto era stato chiuso per una revisione generale. Gli inquirenti hanno aperto ora un'indagine per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. L'intera area è stata posta sotto sequestro e saranno incaricati dei periti tecnici per accertare le cause dell'incidente. Una famiglia di origine israeliana che si era stabilita a Pavia aveva anche dei parenti che abitano a Travacò. Amit e Tal con i figli Tom e Ethan vivevano da alcuni anni a Pavia ed erano divenuti a tutti gli effetti parte integrante della comunità. La notizia dell'incidente ha lasciato sotto sciocco il quartiere di Borgo Ticino e Via Cabella, dove la giovane coppia di origine israeliana viveva fino ad alcuni giorni fa in attesa di trasferirsi nella nuova casa città Giardino. Nel cortile di questo piccolo complesso si può ancora vedere la luce accesa all'esterno dell'abitazione. Una pioggia battente ha accompagnato questa lunga giornata di dolore. I vicini, interpellati al citofono, si sono chiusi in un rispettoso silenzio, evitando di commentare l'accaduto. Chi conosceva Amit e Tal li descrive come una coppia discreta e taciturna, anche a causa di qualche difficoltà con la lingua. Non distante da Borgo Ticino, alla frazione rotta di Travacò vive invece la sorella di Amit, Aya Biran, che nel pomeriggio di domenica si trovava al maneggio con sua figlia per una giornata nella natura. Intorno alle tre, i primi messaggi di condoglianze le hanno annunciato il drammatico incidente. A nulla sono valse le telefonate al fratello e alla cognata. Il giorno dopo la tragedia, nella villetta alla frazione rotta c'è solo il marito di Aya, mentre la donna è corsa a Torino, al capezzale del nipote. Nessun commento anche da parte del cognato, ma solo la richiesta di rispettare il dolore della famiglia. Un dolore a cui partecipano anche le istituzioni sia di Pavia che di Travacò. Pavia si sta apprestando a indire il lutto cittadino, lutto anche in università. Una giornata di lutto cittadino per ricordare le vittime pavesi nella tragedia della Funivia. Il sindaco di Pavia fracassi al lavoro per onorare la memoria della giovane famiglia di origine israeliana, cancellata dal drammatico incidente del Mottarone. Non è che ci siano tante parole da dire, se non, stasera però il Corpus Domine chiederò anche, pregheremo anche in funzione di questo bambino, penso che sia molto importante. Momento difficile, momento delicato, momento duro, quando accadono queste cose. Per cui le parole servono a poco. Passare da una giornata che doveva essere una giornata di festa, dopo tanti giorni che non potevi uscire, non potevi andare da nessuna parte, insieme ai nonni sono andati per andare in un posto incantevole, poi a tutti gli effetti il posto incantevole si è trasformato in tragedia, ecco, nella fine dei sogni. Stiamo anche vedendo per fare il lutto cittadino nei prossimi giorni. Sono in contatto anche per quanto riguarda la comunità israeliana per vedere poi come muoverci. Stiamo cercando di dare una mano a loro per creare poi tutti i contatti, poi tutti gli effetti. E c'è sgomento anche a Travaco Siccomario, dove vivono i cognati di Amite Tal, una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. No, diciamo, stavo guardando le immagini in televisione e sono veramente strazianti. Ne parlavo con un'amica prima, come dire, la sentiamo forse ancora più vicina questa tragedia, no? Perché è come se fosse qualcuno di noi, il Borgo e Travaco, sono proprio vicini sia geograficamente che emotivamente, in qualche modo, ecco. Un evento drammatico che ha sconvolto anche l'Università di Pavia. Come ricordato dal rettore Svelto, Amite era infatti iscritto al quinto anno di medicina. Si era trasferito nel 2016 qui in città per seguire medicina, sull'esempio, sulla scia di sua sorella che aveva fatto lo stesso percorso. Era un ragazzo in regola con gli esami, conosciuto dai suoi colleghi studenti. Io ci tengo a esprimere davvero il cordoglio come rettore, a nome di tutta la comunità accademica, per una tragedia che speravamo di aver dimenticato in queste proporzioni e così speriamo di non dover rivivere. E colpisce lui, colpisce tutta la sua famiglia purtroppo. Nell'edizione giorno avevamo raccontato in diretta delle frenetiche ricerche per un giovane di 24 anni scomparso, l'ultimo avvistamento a Godiasco. Ebbene, ora il giovane è stato ritrovato. È riuscito a mettersi in contatto con il papà che assieme alla sorella lo cercava disperatamente da una decina di giorni. La vicenda di Giovanni Mingrone, giovane studente di Voghera, allontanatosi da casa lo scorso 13 maggio e poi scomparso nel nulla, si è conclusa positivamente nel primo pomeriggio di lunedì a Torriglia, in provincia di Genova. Il 24enne era molto provato, ma sarebbe in buone condizioni. Oltre che dai familiari, la notizia è stata accolta con un sospiro di sollievo anche dalle decine di operatori del soccorso che da giorni cercavano ininterrottamente lo studente in Valle Staffore, nei territori limitrofi. L'unità di crisi è stata allestita a Godiasco, Salice e Terme, nella piazzetta dove era stata ritrovata l'auto del papà dello studente la scorsa settimana. Vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e croce rossa hanno setacciato quanto più territorio possibile trovando presto le tracce di un bivacco in alcuni boschi non lontano dal paese. Tutta la giornata di domenica e parte del lunedì sono trascorsi così, fra la speranza e le segnalazioni che si rincorrevano, spesso contraddittorie, chi lo aveva visto a Varsi, chi a Novi Ligure. Questa è la testimonianza raccolta proprio a Godiasco dai vigili del fuoco, nei minuti immediatamente precedenti al contatto fra il ragazzo scomparso ed il papà. Fino adesso non ci sono notizie, siamo impiegati con i colleghi di Milano dei SAF, i droni di Varese e di Belluno, abbiamo i colleghi di Brescia e stiamo cercando con tutte le nostre forze questo ragazzo che purtroppo fino al momento non abbiamo nessuna notizia. Siamo partiti l'altro ieri sera alle 9 e mezza, alle 10 di sera, non ci siamo mai fermati e stiamo cercando in tutti i modi di avere qualche notizia, se qualcuno l'ha visto, ma fino adesso siamo completamente al buio. Qui abbiamo uomini della protezione civile, della Croce Rossa, abbiamo i nostri SAF, cioè la nostra direzione si è messa completamente a disposizione per le ricerche di questa e siamo in contatto continuamente con il comandante provinciale per dare, appena abbiamo qualche notizia. Nel primo pomeriggio di lunedì finalmente la svolta, il giovane che sarebbe giunto a piedi a Torriglia, nel Genovese, percorrendo un'antica via del Sale, sarebbe riuscito finalmente a farsi prestare un telefono per chiamare il padre che lo ha raggiunto per portarlo a casa. Una brutta, bruttissima storia di fanghi per l'agricoltura contaminati da inquinanti. È stata scoperta dalla forestà dei Carabinieri Frostali, un'indagine che è partita da Brescia, ma questi fanghi arrivavano anche nel Pavese. Più di 12 milioni di euro di ricavi illeciti, 150 mila tonnellate di fanghi inquinati da metalli pesanti, di idrocarburi ed altre sostanze, spacciati per fertilizzanti e smaltiti su circa 3.000 ettari di terreni agricoli nel nord Italia. Le aziende, che incautamente avrebbero concesso lo spandimento a titolo gratuito dei fanghi, si trovano a Marzano e Monticelli-Pavesi, per quanto riguarda la provincia di Pavia, e in dieci comuni del milanese, fra cui Abbiategrasso e Magenta. Un traffico illecito di rifiuti impressionante, che ha portato alla denuncia di 15 persone e che, secondo le indagini svolte dai Carabinieri Forestali di Brescia, sarebbe andato avanti per un anno e mezzo dall'inizio del 2018 all'estate del 2019. A metterlo in atto sarebbe stata una società bresciana con tre stabilimenti, oggi sottoposti a sequestro. Dopo aver ritirato i reflui civili ed industriali, per massimizzare i profitti, la ditta avrebbe omesso di sottoporre i fanghi contaminati al trattamento previsto e, anzi, vi avrebbe aggiunto ulteriori inquinanti, come l'acido solforico derivante dal recupero di batterie esauste. Per convincere gli agricoltori, la società non solo offriva i fanghi contaminati gratuitamente, ma anche la ratura dei campi successiva al loro spandimento. Gli agricoltori quindi erano allettati non tanto dalle supposte proprietà fertilizzanti del prodotto, quanto piuttosto dal risparmio sulle spese di lavorazione dei terreni. In questo modo il sodalizio avrebbe incassato qualcosa come 12 milioni di euro. Per recuperare questa somma, i carabinieri stanno sequestrando decine fra conti correnti ed altri rapporti bancari riferiti alle 15 persone indagate, nonché ad apporre i sigilli su fabbricati, terreni, autovetture e mezzi agricoli di loro proprietà, come è disposto dal giudice per le indagini preliminari. Avevamo annunciato per la giornata di oggi una riunione del Consiglio di Amministrazione del CLEAR, l'ex consorzio Lomellino, per la raccolta dei rifiuti che sarebbe stata piuttosto calda. Ebbene, l'esito, lo vedete già nel titolo, sono che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di rimettere l'incarico. Si sono dimessi tutti. Ennesimo terremoto al CLEAR. Sono dirompenti le conseguenze del rifiuto dei quattro fra i comuni maggiori azionisti dell'azienda di rigettare le fatture per il 2020 contenenti gli aumenti previsti dal piano di risanamento. L'intero Consiglio di Amministrazione ha deciso di dimettersi a termine della riunione che si è tenuta questa mattina. La Presidente Federica Bolognese, il Vice Presidente Fabio Lambri e il Consigliere Antonello Gagliani hanno deciso di lasciare l'incarico. La motivazione starebbe nella mancanza di liquidità necessaria per permettere all'azienda di andare avanti. Il mancato pagamento delle fatture da parte dei comuni di Mortara, Mede, San Nazaro e Dorno, provocherebbe un ammanco totale da un milione di euro. Non sarebbe possibile garantire la continuità nel funzionamento dell'azienda. Nelle prossime ore saranno informate di quanto sta avvenendo la Prefettura e la protezione civile. Probabile un'assemblea dei soci per il prossimo 9 giugno e all'ordine del giorno tornerebbe la messa in liquidazione della società. Questo il commento del Consigliere di Amministrazione Antonello Gagliani. Brutta pagina per il territorio e per l'azienda, c'è preoccupazione per i 47 dipendenti, la scelta dei comuni di rigettare le fatture provoca un ammanco da un milione di euro che non permette di continuare con il percorso tracciato con il piano di risanamento dell'azienda. Sono stati scovati dai carabinieri presunti responsabili di una lunga serie di colpi e danni dei Bancomat, sia degli uffici postali che di distributori di benzina che delle banche. Una striscia che aveva coinvolto pesantemente il nostro territorio, ma non solo. I loro colpi erano pianificati nei minimi dettagli e venivano portati a termine in pochi minuti. Almeno 12 furti o tentati furti ai Bancomat di stazioni di servizio o di filiali di banche in tre regioni diverse, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Sono stati i carabinieri a fermarli grazie ad un'indagine che ha portato all'arresto della mente della banda, un pregiudicato 142enne di Asti, con un lungo curriculum criminale. Gli uomini dell'arma sono partiti da un episodio avvenuto nel settembre del 2019 in una stazione di servizio di Casorate I. I membri della banda, in quell'occasione, si erano allontanati a bordo di una Maserati quattroporte rubata. In particolare il veicolo che è stato utilizzato di più era una Maserati quattroporte provento di furte e danni di un professionista della provincia di Cuneo. Veicolo che poi è stato dato alle fiamme dopo un'azione posta in essere a Zinasco, verosimilmente perché temendo, ormai avendola utilizzata già troppe volte e sentendo vicino la presenza delle forze dell'ordine che stavano giugnendo dell'area, preferirono darle fuoco nelle campagne di Garlasco allo scopo di eliminare qualunque prova. Anche questa attenzione è particolare alla cercare di eliminare le prove, l'utilizzo di abbigliamento particolare, maschere e comunque guanti o altro e in particolarmente interessante è stata l'azione che veniva posta in essere in tempi estremamente rapidi, ben collaudata, come si è potuto vedere dai filmari che abbiamo prodotto avvenivano nel giro di neanche un minuto, dimostravano un particolare affiatamento e per questo ho utilizzato queste espressioni tecniche paramilitari per l'efficienza che dimostravano. I colpi sono stati messi a segno tra il settembre e il dicembre del 2019. Secondo gli investigatori, la banda aveva messo le mani su un bottino di almeno 60 mila euro. L'arresto del capo della banda e la denuncia di una seconda persona, un pregiudicato 35enne, è stato possibile grazie alla collaborazione tra i militari delle compagnie di Alessandria, Asti e Piacenza e degli agenti della squadra mobile di Alessandria. Quest'operazione è il frutto della grande collaborazione che c'è stata prima di tutto fra le procure della provincia di Pavia, di Alessandria e di Piacenza e poi del grande coordinamento interno che c'è stato proprio nei nuclei investigativi di queste stesse province. L'operazione ha consentito di smantellare una banda che era dedita al consumo appunto di questo particolare tipo di reato e ferato. I colleghi di Alessandria hanno provveduto a taluni elementi della banda. Noi abbiamo preso questo soggetto che riteniamo essere l'elemento di spicco della banda che tra l'altro è una persona gravata da notevoli precedenti penali e anche in passato incolpato di un omicidio. Una nuova clamorosa svolta nell'inchiesta sul vino che ha coinvolto terre d'oltre po'. Il vino che era stato sequestrato a marzo dalla procura alla stessa cantina alle analisi è risultato pienamente conforme ai parametri. Insomma era a regolare. Nessuna traccia di diglicerina ciclica o altre sostanze vietate nello spumante sequestrato lo scorso 30 marzo presso la cantina terre d'oltre po'. Lo rivelano, secondo una nota diffusa dalla stessa azienda, le analisi sui campioni fatti prelevare dalla procura di Pavia nel corso del clamoroso blitz di fine marzo che ha visto impegnati quasi 100 uomini delle forze dell'ordine e il nucleo elicotteri dei carabinieri. L'assenza di diglicerina ciclica nei campioni di spumante parte di un lotto destinato ad Eurospine esattamente un anno fa sembrerebbe dunque dar credito alla tesi difensiva dell'azienda che ha sostenuto l'ipotesi di una contaminazione di alcune bottiglie a seguito di una lavorazione per conto di un cliente che avrebbe fornito vino contenente questa sostanza. L'indagine però continua. Come noto la scorsa settimana la polizia giudiziaria è tornata in azienda. Il vino sequestrato lo scorso 21 maggio spiega terre in una nota è costituito da una partita di Bonarda del 2019 acquistata da un fornitore e che la stessa cantina aveva indicato alla procura come non conforme nelle difese già segregato in cantina. Assieme a questo la polizia giudiziaria ha sequestrato 526 ettolitri di pino nero vinificato in rosso del 2018 stoccati nella cantina ex vilide di Stradella, deposito della cooperativa terra che parrebbe essere interessato da un'ipotesi di irregolarità. La procura ha ritenuto di sequestrare anche giacenze di pino nero 2018 presenti negli altri stabilimenti. Così la nota di terre d'oltrepò, le analisi svolte autonomamente dalla cantina su questi vini attesterebbero la regolarità del prodotto. Nel corso del CDA di venerdì prossimo dovrebbe essere ufficializzata alla convocazione di un'assemblea dei soci nella prima decada di giugno. Ha parlato anche dei movimenti in corso nel mondo del vino dell'oltrepò pavese l'ex sottosegretario Buffani in visita oggi in provincia di Pavia. Il suo primo pensiero però ha riguardato il mondo della sanità. C'è un tessuto sanitario pubblico solido che va difeso dalle storture e dalla mala gestione che spesso Aria e la Regione hanno dimostrato e che non è una fase di polemica, c'è una fase di valorizzazione delle nostre competenze. Ho trovato medici, infermieri, direttori generale preparatissimi che stanno mettendo in moto e hanno fatto partire una macchina che funziona. Speriamo il governo corra per portare i vaccini perché questa è l'esigenza, dopodiché serve programmazione, programmazione, programmazione. Prima il sopralluogo al centro vaccinale Palacampus del San Matteo di Pavia, poi la visita inoltrepò. Stefano Buffani, ex viceministro allo sviluppo economico e deputato del Movimento 5 Stelle, ha organizzato una serie di incontri sul territorio per coordinare azioni di sostegno e rilancio per le imprese. Proprio inoltrepò la delegazione dei 5 Stelle ha visitato anche una cantina vitivinicola. Noi siamo venuti ad ascoltare, è una fase per noi importante di ascolto delle istituzioni, ascolto delle imprese. Coinvolgeremo sicuramente anche il ministro Patonelli su questo tema del vino e delle peculiarità di questa provincia, però chiaramente il lavoro lo dobbiamo preparare, dobbiamo far trovare proposte concrete, fatte con gli imprenditori, in modo tale da dare una strada più facile anche al ministro nel momento in cui bisognerà metterla in pratica. Il tema centrale per la nostra provincia, commenta il consigliere regionale Verni, è quello delle infrastrutture. Verni ha poi sottolineato l'importanza del raddoppio della Milano-Mortara. Grazie al nostro intervento, perché a questo punto è giusto dirlo, perché abbiamo lavorato sia in regione sia a livello nazionale col ministero e con RFI, siamo riusciti ad ottenere già un primo passaggio, un punto che è molto importante, concreto, cioè entro il 2026 si fa il primo pezzo di raddoppio. Evidentemente non basta, stiamo lavorando in tande, ma anche insieme ai nostri parlamentari e al governo per riuscire, magari lavorando in parallelo, a fare anche le altre tratte del raddoppio ferroviario. Quindi non ci stiamo lavorando assiduamente, ci stiamo credendo. È un'opera importante per i pendolari, perché quell'area è un'area che vede una richiesta pendolare enorme. Ricordo che Vigemano è la seconda città più grossa della provincia di Pavia, con oltre 60 mila abitanti, per cui è arrivato il momento finalmente di far partire quest'opera che attende da più di 40 anni. Le statistiche riguardanti l'emergenza sanitaria vediamo l'andamento delle vaccinazioni in Lombardia e in Italia. Si continuano a fare molte seconde dosi, sulle prime dosi si è confermato il rallentamento e c'è anche oggi un calo generale che si è visto sulla giornata di ieri per quanto riguarda il numero di vaccinazioni, sia in Italia che in Lombardia. Però poco fa Lombardia ha comunicato di aver avuto annuncio dal generale Filiuolo dell'arrivo di 3 milioni di dosi entro un mese, quindi probabilmente la campagna ripartirà. Per quanto riguarda i contagi, vedete che continua a scendere l'incidenza, contagi che quindi continuano il trend al ribasso. E' morto Ettore Filippi, una carriera di primo piano in polizia e poi una lunga esperienza nel mondo della politica pavese. E' morto all'età di 78 anni dopo una lunga malattia Ettore Filippi, vice sindaco dal 2005 al 2009, ma anche consigliere comunale dal 1988 al 2000 e assessore dal 2000 al 2005. Una vita dedicata alla politica e non solo. E' stato anche dirigente della squadra mobile, contribuendo all'arresto del brigatista Mario Moretti il 4 aprile del 1981. Filippi, molto conosciuto in città, lascia la moglie Monica e i figli Giuseppe, Luca, Matteo, Marco e Serena. In queste ore, soprattutto sui social, sono stati molti a ricordarlo, come l'assessore di Pavia Barbara Longo, legata a Filippi da un lungo rapporto di amicizia. Io politicamente sono cresciuta con Ettore, Ettore lascia quindi in me davvero un grosso vuoto, anche perché in questi anni Ettore è stato per me un saggio e fidato consigliere, ha lottato contro la sua malattia come davvero un guerriero, come un leone, che è un po' una delle caratteristiche che comunque l'ha sempre contraddistinto, anche perché davvero non mollava mai. Ho tanti ricordi, non soltanto politici di Ettore, ma ho tanti ricordi che insomma mi legano a lui. Uno in particolare è quando, cinque anni fa, ho avuto l'onore di unire in matrimonio lui e Monica e in quell'occasione sono andata a Santa Maria di Leuca, che è la sua città, la sua città dove tornerà, tra l'altro, e quindi questo sicuramente per me è stato un onore grande. E' tutto, vi ricordo, in prima serata, a partire dalle 21.10, dillo al giro, un'edizione un po' speciale stasera e poi il palcoscenico del lunedì. Arrivederci e buona serata. Grazie a tutti.